Avete presente l'asterisco? L'asterisco? Perfetto. C'era una festa di asterischi, c'è una festa di asterischi, e allora c'erano questi due asterischi che facevano i buttafuori e bad embostati, chiede che fanno fitness, body beat, due asterischi e bad, che vengono una pagina quando uno ci mette, due asterischi e bad embostati, no? Mi stavano dalla porta e facevano i buttafuori, tranquillamente. Entravano, c'erano, 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 buonasera, ciao, come sei tutto a posto? Si presenta alla porta un punto, dice buonasera, io sto c'erano, no? E' giovanottino, uno sta in, no? No, no, questa qua è una festa di asterischi solo e riservata esclusivamente agli asterischi, quindi tu sei un punto, non potremmo essere. Ah, quando c'erano, io sto c'erano, giovanottino, ti ho detto che non potremmo essere, stasera è festa di asterischi, punti, virgole, punti esclamativi, stasera non potremmo essere, stasera solo asterischi. Ah, guarda, che finisce la, oh, ti ho detto che non potremmo essere, questa è una festa di asterischi, che tu te l'hai andata a facciare, oh, ma mi sta togliando buono, mi sta conosciendo, che tu te l'hai occhio in mezzo, Sara, ma che ti metti sto gel? E' vero.